Questo è un campo difficile dove abbiamo trovato una squadra anche scorbutica con un campo non in perfette condizioni quindi non ha agevolato più che altro le giocate sia da una parte che dall'altra parte. E' chiaro che l'episodio poteva cambiare il match come lo è stato perché noi siamo passati in vantaggio su rigore però è stata una partita equilibratissima dove tutte le due le squadre cercavano di giocare ma ripeto con il fatto che questo campo non era in perfette condizioni non ha garantito il bel gioco sia da una parte che dall'altra parte. Due legni, un rigore, poco calcio, colpa solo del campo o anche del vostro modo di giocare? No, noi giochiamo sempre per vincere. Poi è chiaro che questo è un campionato equilibratissimo ci sono squadre, si può vincere, si può perdere con qualsiasi squadra su qualsiasi campo, in casa, fuori casa. Noi stiamo facendo un grande percorso, siamo la miglior difesa del campionato, siamo imbattuti insieme al Cassarano quindi sono dei numeri importanti per una squadra che ha un percorso diciamo pluriannale quest'anno dopo gli ultimi anni l'obiettivo è quello di ripeto di mettere basi per i prossimi anni ci stiamo riuscendo però noi non dobbiamo mollare perché qui tutte le squadre fanno punti quindi noi dobbiamo innanzitutto confermare la categoria quanto prima e poi spero di ripetere quello che ho fatto lo scorso anno a Francavilla. E' difficilissimo ripeto però noi guardiamo in casa nostra. Ho un gruppo di calciatori, un bel gruppo, lavorano benissimo e niente poi quando lavori bene questi sono i risultati. Nardò ancora imbattuto, ragno che festeggia il superamento dalle 200 panchine, in D prossimo obiettivo le 100 panchine con il Nardò. Ma facendo il calcolo le 100 panchine con il Nardò dovrei vincere e andare a la Puscudetto e vincere la Puscudetto quindi diciamo che sarà molto molto difficile però scherzi a parte io sto in una grande piazza, una piazza che mi ama io ho accettato pur di fare tanti chilometri ma ho accettato questa piazza perché quando vado a Nardò mi sento di casa loro mi hanno accolto benissimo, ho fatto bene sia da calciatore che da allenatore negli anni passati spero di ricambiare questo affetto e questa stima con altri risultati ancora più importanti.